Non sarebbe una brutta vita a far male e il confronto con i miei fratelli. E' coranera della famiglia. Allora sei una pecora nera, tu sei una cazza morta. E' un immaturo che non lavora e cambia ancora con la paghetta di mano. E' morto vostro padre. Una tragedia. E' un dramma. E' terribile. Ci salta il volo per le Maldive. Ero andata sulla scogliera per buttarmi di sotto. Ma fra le rogge c'era un uomo che me l'ha impedito. Domenica ci sposiamo. Che hai detto? E' una specie di figlio dei fiori che si fa ancora le canne. Con una canna ho pescato due pesci per posta. Ha fatto cannabis. E come da tradizione, il pranzo spetta ai parenti della sposa. 37.000 euro solo al tonno. Quello passa una volta sola per i mari della Sicilia. Ecco passo una Lamborghini. Sto matrimonio non sa da fare. Oddio, sono un signor professionista. Un mafioso. C'era un matrimonio. C'è uno sposo. Oh. C'è un cadavere. Non ho avuto paura dei pirati. Di Tuzzi. Posso avere paura di tre stronzi? Amore, ma che ci fai lì? Stavo ammirando l'infinito. Quello di Giacomo Gheppardo, ti ricordi? Tesori miei, era papà che voleva dei figli perfetti. A me bastava il miracolo di averli, i figli. Voi siete come siete. Oh, qua c'è stata una vecchia schedina dietro di calcio. Uno, uno, due. Uno, 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 uno. Questa non è una schedina. Questa è la tua pagiola delle elementari. Pazzo, perché se non gestivo nemmeno un pareggio? 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 Pazzo, perché se non gestivo nemmeno un pareggio?